Ciao a tutti, oggi parliamo di un mio vecchio video, l'SDL219, in cui parlavo di condensatori messi o in parallelo o in serie. In un commento mi si era contestata una cosa sul serie dei due condensatori. Prendo lo spunto per fare una precisazione, perché quello è un caso semplicistico di due condensatori identici messi in serie e l'equivalente praticamente è pari alla metà di uno dei due, però in caso specifico. Andiamo a vedere un po' il calcolo sia dei condensatori in parallelo sia dei condensatori in serie. E' una tipologia di calcolo simile a quella anche delle resistenze o delle induttenze, soltanto che i condensatori si comportano al contrario delle resistenze. Quindi, quando parliamo di resistenze in serie, quella regola vale per il condensatore in parallelo e viceversa. comunque, adesso parliamo dei condensatori. Allora, facciamo il caso più semplice. Due condensatori in parallelo. Quindi prendiamo due condensatori. Io ho gessetti e oramani microscopici. Bene, questi sono due condensatori. Li mettiamo in parallelo. Ok? Questo ha e C1 ha una capacità, mettiamo il caso per esempio di 5 microfarad. Questo qui, C2, 5 microfarad. Bene. Questo è il caso più semplice, semplice. Perché il condensatore equivalente, che sarà uguale, praticamente, ai due messi insieme, di C equivalente, o C1, sarà di 10 microfarad. Praticamente, C1 è uguale a C1 più C2. Molto semplice. Sesso A3 uguale. Sarà C1 più C2 più C3. Sesso A4, C1 più C2 più C3 più C4. E così via. Questo è il caso più semplice. Prendiamo qui questa specie di gancelino, che è più semplice sporca. Questa è una lavagna finta, fatta quella che mi dice, non è una lavagna di ardese. Bene, facciamo il caso quello più complicato. I condensatori in serie. E qui facciamo proprio il caso di quel video lì. Va? qua. Ok? Bene. I condensatori sono in serie. La, questo è C1 e questo è C2. Il C equivalente sarà uguale, e qui, questo è un caso specifico però, sarà uguale a C1 per C2, C1 più C2. Ok? C1 per C2 fratto C1 più C2. Nella fatti specie di quello lì dove c'erano due condensatori da 700 farad, eh? 700 farad, 700 farad, che io ho detto in maniera semplicistica, saranno 350 microfarad e uno dei due diviso due, praticamente. È vera. che andiamo a G7. Fatti? Qui presentiamo praticamente 700 per 700, 700 per 700, diviso 700 più 700. Questo diventa da 1.400. Qui sopra diventa 490 mila. Se fate questa divisione, quanto fa? 350. Ok? E quindi ci siamo da 354, alla metà di 700. È caricato. Ora, parata la volenca, andiamo a vedere però il caso generale. Cioè, normalmente, com'è il calcolo? È un po' più difficile. Questo è il caso specifico. Perché noi, eventualmente, potremmo vedere anche che i condensatori non sono tutti della stessa misura. Diciamoci, non è un caso tanto frequente. Perché se noi andiamo a fare una batteria di supercondensatori o di condensatori e un alimentatore, già la metterà beh, li mettiamo in parallelo. Nei supercondensatori succede che la tensione di esercizio è molto bassa. Quindi, per avere tensioni di esercizio più elevate, purtroppo, non rimane che metterli in serie. Perché in quel caso, la tensione di esercizio si somma. Quindi, quando ogni caso si vanno a fare i batteria di supercondensatori, essendo in genere la tensione di esercizio di un supercondensatore circa tre volte, se dobbiamo ottenere i 12 volte, noi dobbiamo mettere quattro in serie, praticamente. E, a quel punto, la capacità complessiva è un quarto rispetto a quella di un singolo condensatore. Perché vale, quando i condensatori sono tutti uguali, quella regola di prima, vale lo stesso. Prendete il valore di uno e lo dividerete per il numero dei condensatori in serie. Va benissimo. Però la formula, quella reale, è la seguente. Praticamente mettete una serie di condensatori in serie, 1 su C equivalente, quindi il reciproco della C equivalente, è uguale alla somma dei reciproci di tutti gli altri condensatori. 1 su C1, più, non si vede più niente, straccio. Mi piacerebbe tanto vedere la lavagna di alberzi. Allora, le retorniamo. CE è uguale, scusate, 1 su C1, è uguale a 1 su C1, più, che è uguale a 1 su 1 su C2 più 1 su C3 e via dicendo la stessa per esempio le resistenze in parallelo ora hanno 1 su R uguale a 1 più stessa identità formula ok? vi potete divertire e fate un po' di conti vi ringrazio se mi avete seguito un video qui molto brevemente iscrivetevi al canale vi fa piacere grazie e alla prossima iscrivetevi al canale